Questa è la determinazione più importante compiuta da Papa Voitiva in tutta la sua attività di Papa. A punto 56 dell'enciclica Fides et Ratio del 14998 ha concluso così, rivolgendosi ai filosofi. Questa è la strada da seguire, bisogna non perdere la passione per la verità ultima e l'ansia per la ricerca, unite all'audacia di scoprire nuovi percorsi. È la fede che provoca la ragione a uscire da ogni isolamento e a rischiare volentieri per tutto ciò che è bello, buono e vero. La fede si fa così avvocato, convinto e convincente della ragione. E questa è la ragione che ieri io vi ho riferito annunciandovi che, fatto beato, vedrete presto che cosa farà il beato Giovanni Paolo II? Proprio nell'attuazione di questa strada da seguire. Egli seguirà questa strada in cielo. Non perderà, egli per primo, la passione per la verità ultima e l'ansia per la ricerca, unite all'audacia di scoprire nuovi percorsi. perché questo Papa si è trovato di fronte a un solo filosofo che lo ha fatto. Lo ha fatto compiendo proprio quello che è indicato qui come metodo, perché è stato provocato nella sua ragione a uscire da ogni isolamento e a rischiare volentieri per tutto ciò che è bello, buono e vero. Questo filosofo, poggiandosi sul triplice comandamento che Pietro aveva avuto di pascere il suo greggio si è messo a non pascere più, si è affidato al buon pastore, affinché provvedesse il buon pastore per l'incarico triplitario che aveva ricevuto da Gesù di curarsi oppure no della sua pastura. Non avrebbe mangiato più fino a quando questo Papa, che aveva provocato la ragione a uscire da ogni isolamento, non avesse assecondato l'intenzione di questo filosofo, che avendo trovato in se stesso. L'audacia di scoprire nuovi percorsi si è trovato di fronte alla assoluta mancanza di fede da parte della base della Chiesa della possibilità che fossero scoperti nuovi percorsi. E quando ha osato per l'audacia che gli era consigliata di rivolgersi al Papa per indicargli la sua scoperta, perché quando il Papa spiega scoprire nuovi percorsi significa che essi sono nuovi, che non sono mai stati seguiti, quando questo filosofo osa rivolgersi al Papa per mostrarglieli e trova tutti gli intermediari che dovrebbero favorire questa consegna, che imboscano il messaggio, lo mettono a tacere. E allora questo filosofo rischia la sua vita. È certo di non morire, perché affidando se stesso come pecorella smarrita al buon pastore, egli sa che il buon pastore a cui egli si affida ha avuto il triplice ordine di curarsi della pecorella smarrita. Quindi non è un suicida. E quindi cerca di sollecitare proprio Pietro a compiere quella parte che ora spetta a lui, che l'ha mandato, di provvedere a che sia anche ricevuto. perché non si può mandare allo sbaraglio chi è provocato a uscire da ogni isolamento e a rischiare volentieri contro a un rischio mortale di non mangiare e trovare tutti intorno che gli dicono lo mangia perché altrimenti sei tu che lo vuoi. Ebbene, qual era questo nuovo percorso? Esisteva o non esisteva in relazione a Gesù Cristo. Vedete Gesù non è stato annoverato tra i filosofi, eppure egli quando ha affermato Dio uno e trino ha affermato che il fondamento di tutte le cose è uno nella sua sintesi di tutto ciò che esiste in potenza di esistere, ma è anche affidato a due enti assoluti, uno riconoscibile come la causa assoluta, il padre, l'altro come l'effetto assoluto, il figlio, tanto che della loro interazione tra la causa assoluta e l'effetto assoluto venisse proprio come il risultato reale quella unità assoluta di tutta l'esistenza, fondata addirittura tra l'essere e il non essere. Quando il trinitario modo di essere di quanto è in potenza, è anche in atto, differenziato nell'interazione tra un padre e un figlio, assoluti, come una causa e un effetto assoluti. E in tal modo un pensatore dà la sintesi di quella esistenza che cinque secoli fa filosoficamente era stata affermata unicamente come il fondamento dell'essere e un pensatore rivela la triplicità di questo essere, mettendo insieme tra di loro la visione di Platone e di Plotino, perché di fronte all'uno che è il risultato del prodotto tra gli opposti, teoria di Platone, e quella opposta di Plotino che arriva a dire che invece la causa è quell'altra, quando Gesù Cristo afferma che non esiste alcuna precedenza tra una missione e l'altra, perché esiste una assoluta interazione. E questa fondamentale verità non è nemmeno rilevata dagli esperti della filosofia di questo mondo. Voi vi rendete conto di quanto pecchi la stessa verità filosofica dei professori di filosofia nello scoprire la vera e originale tesi filosofica essenziale introdotta da Gesù Cristo, come alla compresenza di quanto è né prima né poi, ma come l'interazione di un prima e di un poi che non esiste, perché è realizzato ed è posto in atto solo all'interno di una visione relativa a un essere che Gesù lo spiegò chiaramente all'unico pensatore che andò una sera da lui e voleva sapere com'era in verità che si entra nel regno dei cieli. E Gesù gli disse che questa realtà nella quale è l'uomo ha due linee di azione, quella della materia e quella dello spirito, quella soggettiva e quella oggettiva, e neanche questa volta di fronte al primo vero tentativo di spiegare scientificamente le ragioni dell'esistenza e quella di un'esistenza binaria che noi stiamo osservando e che sarà comprovata dalla scienza fisica solo molte centinaia di anni dopo, più di 15, quando l'uomo si ritrova di fronte a un pensiero di questo tipo e non è neanche in grado di coglierne l'aspetto scientifico, filosofico, siamo di fronte a una cultura che manca assolutamente delle capacità di scoggersi il vero valore quando è veramente nuovo. Ebbene, il nuovo percorso scoperto da questo unico filosofo che ha trovato il nuovo percorso proprio di Gesù nell'unità e trinità di Dio, in quella spiegazione razionale del dogma ritenuto tale dalla fede, ossia una cosa assolutamente da accettare perché è indimostrabile, e l'ha dimostrata proprio come la coesistenza tra tre entità assolute, come 10 elevato a 0, assoluto nella base 10 e nell'indice 0, uguale a 10 elevato a 1, assoluto nella base 10 e nella quantità 1 dell'esponente, e 10 elevato a meno 1, nuovamente assoluto nella base 10 e nell'esponente meno 1, quando questo filosofo arriva a dimostrare l'assoluto primato di Gesù Cristo, ma ha anche la capacità di farlo riconoscere come quel fondamento cui è legata la stessa relatività generale di Einstein attraverso quella determinazione fatta a 200 anni or sono dalla scienza relativa quando volle che tutte le unità della fisica giacessero nel sistema unitario decimo-decimale, ossia che tutte le unità fossero scoperte in un modo che tenessero conto del ciclo 10 dell'unità. Questa è stata la fondamentale scelta fatta 200 anni or sono e che ha coinvolto tutte le unità dell'ammisurazione. Il metro non esisteva, ma dopo di allora il metro è stato piegato al ciclo decimale. In che modo, direte voi? Attraverso la Terra. La Terra è stata immaginata come una massa inclusa in un meridiano. La chiusura del meridiano doveva corrispondere a quattro tempi di rotazione. L'esistenza del primo quadrante trigonometrico a cui sono relativi gli altri tre, che ne mutano tutti i dati trigonometrici solo in relazione ai segni, ma non alla quantità che varia tra 0 gradi e 90 gradi, tanto che imponendo il meridiano come un sostanziale quattro, dato da un tempo, quello dell'angolo retto, e tre tempi, quelli della successiva variazione di tre angoli retti successivi fino a chiudere interamente il ciclo dei quattro quarti dell'unità, quando questi scienziati fanno questo, è perché sono arrivati prima di Einstein a dire che le dimensioni della realtà sono quattro. Una è il tempo e tre è lo spazio. Posto ciò alla base di tutto, poi è posto il dominio del ciclo 10. In che modo? Attraverso la potenza 10 elevato a 10. riconobbero che l'espressione assoluta del ciclo 10 era, matematicamente parlando, data da 10 elevato a 10. E furono tanto lungimiranti che, avendo definito così il metro, quando poi è stato riconosciuto il valore unitario dell'atomo è stato esattamente 10 elevato a meno 10 metri. Questo a prova della perfezione della loro determinazione. Ma essi si appoggiarono alla massa. La massa 1 doveva essere all'interno di un ciclo che fosse un metro in 10 suoi cicli. Quindi il metro che non esisteva ancora come valore fu diviso per 10 e era il decimetro. Il decimetro cubo sarebbe stato l'unità della massa che in ognuna delle tre dimensioni dello spazio era un decimo e il metro cubo sarebbe stato l'unità dello spazio. Ciclo 10 della massa decima. A questo punto per chiudere la terra con una massa decima fecero sì idearono un meridiano che fosse una linea non virtuale ma reale composta da 4 volte 10 elevato a 10 decimetri cubi. In lunghezza erano 4 volte 10 elevato a 10 decimetri. Nella sezione erano di un decimetro quadrato. Questa definizione chiudeva interamente la massa con l'unità della massa ossia con il decimetro cubo ma poi per riferire tutto ciò al ciclo 10 della massa la riferirono al metro cubo quindi divisero tutto questo volume dato da 4 volte 10 alla 10 decimetri cubi per i mille contenuti in un metro cubo tanto che l'indice passò da 10 alla 10 a 10 alla 7 il volume era sempre lo stesso ma ora il meridiano era scomposto in una lunghezza di 4 volte 10 alla 7 per una sezione di un metro quadrato e la massa era così accorpata nell'unità dello spazio e si era capito quale doveva essere l'ideale unità dello spazio quel metro che fosse relativo ad un meridiano lungo esattamente 4 volte 10 alla 7 la questione era solo quella di misurarlo una volta misurato la 40 milionesima parte del meridiano doveva essere il metro quindi il metro è stato creato dominato dal ciclo 10 alla 10 dell'unità della massa ecco come il metro è stato agganciato al ciclo 10 ecco come la massa è stata agganciata al ciclo 10 attraverso il metro e il tempo in che modo fu agganciato al ciclo 10 poiché la terra è una sfera quello che accadeva nel meridiano era l'immagine di quello che accadeva anche nel piano dell'equatore attraverso una rotazione angolare anche essa doveva essere in quattro quarti di cui un quarto fosse il tempo e tre quarti fossero lo spazio la presenza reale della massa terrestre doveva durare nell'unità del secondo ma essendo agganciata al ciclo 10 del metro doveva essere riferita come presenza al ciclo decimo del secondo al ciclo decimo del secondo corrispondeva dunque un meridiano di 40 milioni di metri e al secondo chiaramente 10 volte tanto 400 milioni di metri agganciati al secondo ecco volendo osservare ora tutto ciò in velocità bisogna riferirlo solo allo spazio poiché lo spazio è tre volte quel quattro perché una volta è il suo tempo 300 milioni di metri erano lo spazio ogni secondo mentre invece 100 milioni di metri erano il tempo ogni secondo ecco come fu fissata la velocità assoluta della realtà della massa terrestre attraverso la velocità di 300 milioni di metri ogni secondo percorsi da una superficie di un metro quadrato riconoscere tutto questo porta a capire che poi furono adottate tutte unità di misura all'interno del ciclo 10 e il ciclo 10 divenne il ciclo assoluto come assoluto riferimento di tutte le unità della fisica quindi quando Einstein introduce il ciclo totale della massa perché egli in C2 cerca di lanciare la massa in tutto il suo ciclo egli stesso giace in questa dimensione totale del ciclo 10 ma lo riferisce soltanto unitariamente al ciclo della massa riconosciuto come quello dell'energia ecco perché 10 alla zero uguale 10 il ciclo della massa il ciclo di ogni unità per un decimo ossia ogni unità della fisica e non solo quella della massa o dell'energia o dello spazio o del tempo è la legge generale pronunciata da Gesù Cristo ecco come questo sta a monte di tutta la relatività generale di Einstein sulla quale la scienza è abbastanza d'accordo ma ecco come la verità di Gesù Cristo che è a monte addirittura di questa verità assume un ruolo cui inchinarsi come davvero messi davanti tutti a un Dio che ha rivelato il rapporto tra relatività generale e quella assoluta ecco il nuovo percorso assolutamente straordinariamente significativo proprio perché messo in relazione all'unità scoperta dalla scienza come quella relatività generale tra la massa e l'energia ossia tra tutto ciò che esiste in potenza e quella forma che entra in atto quando ciò che è puramente in potenza come l'energia entra nel tempo si sposta assume una velocità e diventa massa ecco come questo filosofo replicando quello che aveva già affermato in un modo assolutamente glorioso e non rilevato da nessuno da parte di Gesù Cristo scopre il valore assolutamente grandioso di Gesù Cristo a differenza di tutti gli altri che sono entrati sempre nella fede a annunciare dei principi non motivati mentre invece questo di Gesù Cristo è motivato ed è verificato dalla relatività generale scoperta vera da Einstein scoperta vera dal mondo dall'intelligenza del mondo e rivela un'intelligenza superiore che collega il mondo reale a quello assoluto e ideale dell'esistenza divina ebbene quando questo filosofo ha trovato questo nuovo percorso e cerca di presentarlo e l'uomo si oppone perché nessuno gli riconosce un ruolo in tutto ciò per primo luogo proprio quella fede che non vuole assolutamente sentire ragione di dimostrare vero quello che ha detto Gesù Cristo da una conferma umana beh se la fede per parola precisa del Papa provoca la ragione a uscire da ogni isolamento e a rischiare volentieri per tutto ciò che è bello buono e vero e un filosofo lo ha fatto e è andato incontro a due condanne a morte da parte dell'apparato di due papi perché la prima volta ha digiunato in vano 57 giorni nel 1999 e dovette interrompere solo perché sua madre malata del morbo di Alzheimer dipendeva da lui poi sua madre è morta nel 2005 ha riprovato nuovamente da un'altra parte perché oramai qui nel milanese era terra bruciata tra lui e la religione si è presentato in incognito a Pescara e dal giornale il centro di Pescara che si è prestato a fare da postino sono partite tre sue lettere al Vaticano anonime non firmate da lui ma queste lettere dicevano c'è una pecorella smarrita che si affida al buon pastore perché sia ricevuta dal buon pastore altrimenti questa pecorella muore di fame e furono tre lettere come quelle tre richieste scritte nell'ultima parte del Vangelo di San Giovanni quando per tre volte Dio chiede a Pietro mi ami tu più di costoro e Pietro rispose mi ami ma in questo caso relativo al filosofo nessuno dal Vaticano ha risposto come mai perché quel buon pastore che aveva avuto il triplice ordine da parte di Dio pasci le mie pecore se mi ami più di costoro aveva messo la custodia delle pecore nelle mani di costoro e oggi proprio quel papa si lamenta contro costoro quando diventano invece che promotori del bene gli autori di una pedofilia pesantissima nei confronti dei bambini ma ancora una volta questo papa è limitato pensa pensa solo alla violenza compiuta contro il corpo dei bambini non si rende conto che è ancora maggiore la violenza fatta contro lo spirito dei bambini perché Gesù fu chiaro guai a chi scandalizza un bambino e questo filosofo invece si è scandalizzato di questa chiesa che mentre gli diceva sei proprio un bambino che vuole essere ricevuto dal papa come farebbe questo povero uomo se tutti coloro che lo vogliono vedere pretendessero di essere visti in vano questo bambino mostrava le due benedizioni apostoliche avute in precedenza in vano diceva io devo portare solo una risposta a una domanda fatta dal papa che desidera conoscere i nuovi percorsi che ha stimolato a trovare ogni coraggio per rischiare volentieri io sto rischiando la morte per fame perché se il buon pastore non mi risponde io muoio di fame ma il buon pastore aveva affidato le sue pecorelle nelle mani di questi sacerdoti alcuni dei quali sono pedofili nei confronti del corpo ed altri pedofili nei confronti dello spirito che dicono a un filosofo sei un bambino e lo riconoscono come tale e poi lasciano che questo povero bambino nel primo caso digiuni 57 giorni e nel secondo caso digiuni 55 giorni e non rispondono nemmeno alla sua domanda al papa mi ami tu più di costoro perché perché Dio che è in ogni povero Cristo è maltrattato lui quando è maltrattato un povero Cristo ogni povero Cristo guai quando uno che non conta nulla è maltrattato perché non conta nulla proprio dalla chiesa cattolica per la quale chi non conta nulla dovrebbe essere chi conta più di tutti e invece a Roma al Vaticano quando arriva un potente che sia stato annunciato o no è ricevuto dal papa tutti sono stati ricevuti da questi due papa tutti tranne l'unico che aveva da dare questa risposta al papa che lui morrisse pure perché per lui non c'era spazio per il papa e qui si attua proprio quella profezia dichiarata da Gesù al punto 18 del termine dei Vangeli il capitolo 21 di Giovanni nel punto 18 è scritto dopo che Pietro ha risposto per tre volte signore io ti amo ebbene io ti dico così parla Dio a Pietro quando eri giovane ti cingevi i fianchi e andavi dove volevi ma quando sarai vecchio stenderai le braccia e un altro ti cingerà e ti porterà dove non avresti voluto questo altro è stato quel l'ideale prete pedofilo che ha impedito all'unico martire di questa vicenda di essere ricevuto morrisse pure si sono nuovamente verificate le condizioni di due nuove condanne a morte proprio da chi aveva nuovamente rilevato lo stesso principio fondamentalmente vero giusto e sacrosanto di Gesù Cristo era la stessa verità di Gesù Cristo riconosciuta vera e forte per la scienza giudicata una cosa senza alcun senso per cui che uno avesse da proporre proprio la soluzione al Papa che la voleva se tutti quelli che vogliono parlare col Papa fossero ricevuti o piccolo bambino a modeo come farebbe povero uomo ecco quello che è successo ieri è che la Chiesa cattolica infallibile che ha avuto la delega da Dio di legare in terra come in cielo ha legato l'autore dell'enciclica Fides et Ratio che ha scritto queste cose che voi state leggendo la fede si fa così avvocato convinto e convincente della ragione ebbene è da ieri la fede del beato Papa Giovanni Paolo II che avendo finalmente saputo dell'esistenza di questo povero Cristo nuovo martire due volte da parte dei Caifa di oggi del loro apparato avendo saputo dell'avvenuto martirio provvede e si fa così avvocato convinto e convincente della ragione davanti a Dio ecco se tutto ciò è vero e voi non potete negarlo che lo sia dovete aspettarvi prossimamente che il beato Giovanni Paolo II Papa intervenga personalmente presso Dio come l'avvocato che aveva promesso lo farà lo vedrete tutti c'è solo da aspettare chiederete perché mai ecco perché per la profezia di San Malachia il Papa 111 riconoscibile in Benedetto XVI sarà soppiantato secondo la profezia da Pietro Romano numero 112 ebbene Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo è il nome intero del filosofo che ha digiunato 57 più 55 uguale 112 giorni gli stessi della profezia per la duplice contravvenzione del punto 56 dell'enciclica Fides et Ratio dunque 56 più 56 uguale 112 i giorni della profezia e l'acronimo di Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo nelle tre che cominciano per consonante è RPT se il primo come Gesù comanda è posto sempre ultimo allora è posto come R o Romano per ultimo e RPT diventa PTR o Romano egli comprende bene in se stesso Iesus ed è il profetizzato P-I-T-R-O Romano 112 per i 112 giorni di morte per fame decretati dalla duplice violazione 56 più 56 uguale 112 del punto 56 di questa enciclica che come avete visto impegnava la fede all'avvocatura da darsi alla ragione grazie a tutti